Bene, sono dentro. Ok, ti vedo. Ti vedo pure io. Ah, vedi che vedo subito la tua skin. Sì, sì, sì. Ok. E' abituato a sentirti dire, sono. Motore. Motore. Cos'è detto, paglia? E' abituato a sentirti dire, sono dentro. Certo, andiamo. Ok, sono su. Anch'io. Dicca che... Che differenza, eh? Le ruote a 5 minuti all'ora... Ehm, veramente. È vero, sì. Rispetto... Rispetto a Foggerwolf è una differenza. scoperta... Nonturna manetta, andiamo su. Allora, scusa mi ho tirato fuori la mappa, ti ho momentaneamente... Eh no no, tanto sulla propa qua non c'è il puntino. Sono due ore no. Sì, la propa... Probabilmente viene quella lì, eh? Sì, no, ma infatti anche a me non piace il discorso del puntino sulla mappa. Però è chiaro che se l'avversario non usufruisce, a questo punto lo scoprisco pure io, perché sennò... Sì, sì. Eh ma l'area di traia anche che senza quel cazzo puntino dice che ci si perde, ci sta... Sì. Un'ora e mezza senza fare nulla. Allora, aspetti che ti devo ricercare un'altra volta. Sono ore due, ore due. Ah ok, grazie, grazie, perfetto. Grazie molto per te. Grazie. Sì, grazie. Ok, grazie. S5 davanti a noi, ore dodici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, mi sembra che c'è già un combattimento davanti a noi, due flare, un aereo, due aereo. Ok, mi sembra che c'è già un combattimento davanti a noi, due aereo. Sotto uno spad, quello sotto un altro spad, quello sotto ancora... No, sono S5, non sono spad. Ok, l'R rosso abbiamo sempre mica. Sono con te. Mi sembra un altro possibile. Un altro più saldo possibile. E' l'impiccata, ricordati, prima sopra i 2.200 giri mi sono spatti un motore qua. Lì ho avuto... Ah, guarda, è rosso, bello. Io mi fermo a guardarli gli avversari e spararli. Sì, sì, ti vedo. Cioè, è meglio, in questo momento no. Sei ancora giù, Andrea? Sì, 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 sono la rosso terra. Vengo lì allora che vedo diversi. Ok, hai le ali con la bandera italiana no? Sì, sì. Ok, vedo che lo stai attacchiando no? No, 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 ho abortito. Ah, è abortito, sì. Ok, è aborto. Ok, sono con te. E' a terra... a terra. Sì, sì. Vedi, poi è semplice di ritrovarsi perché c'è una terra di nessuno. Minchia. Quindi se viene una parte... Minchia, non ti trovo più. Sono andato sopra di te. Eh, infatti, eri... ero... ero con te, eh? Due secondi fa... Eh, le ali tolgono molta visibilità, eh? Da là sopra. Minchia, c'è uno sciame dietro di noi. Andiamo via. Sì. Altissimi. Sono altri. Sì, sì, sì. Il bello giro è che quando si creano i combattimenti, minchia, si creano tipo i mosquitos. Sì, sì, è vero, è vero. Ha ragione. Sì, è vero che continuano a non vederti, cioè... Non vedete, manca. Eh? Ore... ore e nove. Ore e nove. Ore e nove. Ah, minchia. Ok, stai vinando a sinistra, insomma. Sì, sì, lo fa il cosigno. Ok, arrivo. no il motore è molto caldo aspetta che apro tutto ok va un po' rinfrescato ok ho portato le mie temperature combat tasks ma che bello questo serve tutte ste notizie come te li da si questa qua è un buon server come allenamento il matro non sono troppo grosse anche se ci stanno quindi una ventina di giocatori si riesce a fare combattimenti non troppo frenetici non si è abbastanza frenaciato i combattimenti su roff nonostante arrivano a 150 lora vedi come sono proprio un attimo sei su un attimo dopo sei giù allora confronto secondo me i combattimenti sull'allentatore secondo me i combattimenti sull'allentatore non so non so qual era tedesco che ero fosse un abatros era proprio bello tutto rosso è stato un peccato tirarlo giù era troppo bello noi siamo proprio nazionalisti con queste ali bianco verde e bianco rosse sotto la seconda ala quella più bassa sotto si si lo sono infatti se tu inverti la vedo bene infatti prima ti ho visto qualche fontana qualche fontana è bello che i coppieri hanno andato colorati infatti un circo volante dice qualcosa infatti un giallo uno verde un circo volante dice qualcosa non so